Oltre 36.000 kg di pellet non conforme alla certificazione di qualità europea sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Agordo nel Bellunese nell'ambito di un servizio per il contrasto alla contraffazione e all'abusivismo commerciale. Le Fiamme Giallo hanno individuato una società dove veniva stoccato per la vendita pellet confezionato in sacchi del peso di 15 kg ciascuno con caratteristiche tecniche di indicazioni informative non conformi. Sequestrate oltre 2.400 confezioni già pronte per la vendita, segnalato il rappresentante legale della società per il reato di frode nell'esercizio del commercio.